I video da Motorola One Vision, vediamo se riesco a non farmi investire, si possono registrare alla risoluzione di 4K, 30 fps ovviamente, non c'è stabilizzazione ottica, quindi questo in sostanza è il massimo che potete ottenere se registrato in 4K. Quella laggiù che se ne va, 1080p è la tramvia che avrei dovuto prendere io, ma l'ho persa, speriamo di riuscire comunque ad arrivare in tempo alla stazione e adesso appunto sto registrando a 1080p per scoprire se la stabilizzazione è migliore rispetto a quella del 4K. Che caldo, doveva piovere, ma anche ieri, anche ieri l'altro, non è vero, non piove mai. Grazie a tutti. Grazie a tutti.